ciao a tutti ragazzi benvenuti a questa nuova puntata di drone adventure oggi vi faremo vedere come impostare la bussola per far sì che il vostro drone possa avere una stabilizzazione migliore allora in questo caso ha già preso il segnale come vedete lampeggia verde quello che faremo ora è simulare che questo invece lampeggiava giallo e rosso alternativamente la prima cosa da fare è prendere il telecomando la leva di destra e muoverla ripetutamente per sei volte fatto questo si prende il drone lo si mette in posizione orizzontale e si fa un giro di 360 gradi dopo di che lo si mette in posizione verticale e si compie lo stesso a questo punto il drone è pronto segnalandolo con la luce verde questa funzione viene raccomandata ogni qual volta si cambia posizione dal di partenza da parte del drone modo tale che possa ricevere esattamente il vostro segnale gps e anche nel caso di impostazione del back to home che vedremo nel prossimo tutorial possa identificare esattamente dove deve riatterrare il proprio drone per ora è tutto alla prossima